il convegno si conclude con una prova per anziani in categoria G sul doppio chilometro restano in dieci dopo i ritiri dei numeri tre e cinque Olimpo WF e Tratalias quindi quattro partiranno in prima fila e sei in seconda prende velocità il mezzo meccanico Okavango B è il più sollecito a largo Tullio Griff che sopravanza roulette russa poi Twitter G far lungo lo steccato largo Timbuktu B Tullio Griff a comandare le operazioni Timbuktu B avanza a largo ed ottiene la via libera e così Timbuktu B a comandare le operazioni 29 e mezzo la spesa è piuttosto sostenuta questa prima parte di gara adesso Timbuktu B gradua arriva arriva comunque a 600 metri in 46 e 1 incollato nella sua scia Tullio Griff che precede Okavango B e roulette russa roulette russa si sposta dalla corda si lascia scavalcare da Romeo da Pisa 1 e 2 gli 800 in terza ruota costante Patriot Gar 16 e 9 il primo chilometro muove a largo anche Okavango B la corda non piace proprio a nessuno Okavango sposta e va ai lati di Tullio Griff mentre il leader sta accelerando adesso Okavango prova l'angaggio a Timbuktu Okavango è incisivo raggiunge Timbuktu e lo appariglia completamente poi Tullio Griff che si prepara Miglio volato in due e quattro scarsi passa Okavango B ma non completa ancora il sorpasso la mossa in terza ruota di Tullio Griff Tullio Griff è incisivo battute conclusive con Tullio Griff che se ne è andato per proprio conto nei confronti di Okavango B mentre per il terzo interviene Subsonica Subsonica va anche su Okavango ed è secondo Subsonica Griff al terzo Okavango e per il quarto buono per la prossima Oxy Tullio Griff e Vincenzo Gallo si vanno ad imporre alla grande in tanti sbagliano i conti parziali anticipati un primo chilometro sostenuto alcuni che si sono spostati dalla corda per andare a correre senza avere energie da spendere insomma non è stata proprio una bella corsa però almeno Vincenzo è stato bravo con Tullio Griff ed ha portato a casa il successo è tutto dal Cirigliano arrivederci alla prossima giornata di corse che si terrà mercoledì 18 di sempre buona serata a tutti Grazie 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 Grazie